Lui è il calcio, è il pandone, quella sfera che gira è lui, è come se ci fosse la sua faccia. Quello che ha fatto lui con la palla non l'ha fatto nessuno e mai lo farà nessuno. Ha fatto divertire non solo i napoletani ma gli argentini, tutti quelli che l'hanno guardato. Ha fatto cose straordinarie, gol straordinari, assist. Tutto quello che c'era da fare penso che l'ha fatto lui. L'ho conosciuto e questa è una foto che sinceramente mi emoziona vederla perché abbracciare il giocatore più forte della storia del mondo nel calcio è bellissimo.